Allora la finale terzo quarto posto, la mini finale, l'abbiamo vinta meritatamente contro degli Stati Uniti veramente giù 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 giù, molto 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 giù di corda, una squadra oggi che ha giocato molto male, sto parlando ovviamente degli Stati Uniti, cioè tanti tanti errori gratuiti, errori di palleggio, errori di difesa, di ricezione, di attacco, cioè è stata una squadra molto 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 fallosa oggi ai Stati Uniti e ci hanno avvantaggiato per questa vittoria, oltre ovviamente i nostri meriti che sono stati sicuramente tanti, ma togliendo adesso i meriti nostri, loro sono state veramente molto molto fallose. Le opposte fallosissime, anche la stessa centrale la Washington è strafallosa, ha sbagliato tantissimo anche nell'ultimo sette, come abbiamo visto, insomma ha sbagliato quelle due occasioni, lì buttando la palla fuori di un metro o due, insomma, su quelle veloci e quindi ciò fa capire un po' la giornata delle ragazze americane che è stata sicuramente negativa. Per quanto riguarda invece la giornata nostra è stata di certo positiva, quando giocava tutto è bene, su tutti i fondamentali, palleggio, difesa e attacco, ovviamente avvantaggiate anche dalla scarsa tenacia dei nostri avversari, quindi siamo stati totalmente avvantaggiate. Abbiamo giocato con qualche errore, sicuramente il terzo sette è stato molto falloso anche la parte nostra, se non fosse stato per i tanti ancora più falli degli Stati Uniti l'avremmo perso il terzo sette, ma probabilmente l'avremmo vinto al quarto perché l'America, di certo gli Stati Uniti non potevano competere oggi contro di noi, cioè non c'è stata storia e dal primo sette avevo capito che oggi la partita era vinta, avevo già capito che la partita era totalmente vinta perché comunque gli Stati Uniti non erano in campo, non erano in campo concentrate, quindi noi invece siamo entrati molto più concentrate rispetto a quando andammo a giocare col Basile che, di certo, il Brasile è un'altra pasta come la Serbia, un'altra pasta rispetto agli Stati Uniti, però il merito ce lo dobbiamo prendere, sicuramente il merito ce lo dobbiamo prendere, ci sta, abbiamo fatto una grande partita, una bellissima partita, adesso aspettiamo la finale, aspettiamo la partita di questa sera tra la Serbia, tra Boscovic e il Brasile, vediamo un po' come andrà a finire, io questa sera non lo so sinceramente come finirà la partita, sono più rivolto verso la Serbia, se devo essere sincero, se devo essere al 100% sincero, sono più optato, indirizzato verso la vittoria della Serbia, anche se il Brasile contro di noi ha fatto una grandissima partita, io penso che abbia fatto una partita migliore del mondiale il Brasile contro di noi, ma rimango sempre del parere che la Serbia sia di un punto, se non due, favorita, e quindi il pronostico mio di questa sera è una vittoria della Serbia, non una vittoria schiacciante, ma una vittoria della Serbia che si porterà a premio un altro mondiale in bacheca, dopo il mondiale, purtroppo, portatosi in bacheca nel 2018 contro di noi, oggi abbiamo fatto la finalina, nel 2018 abbiamo fatto la finalona, perdendola nel quinto set in maniera obbriosa, uno proprio fu perché errori incredibili all'ultimo set, mi sa, c'erano incazzare tantissimo, purtroppo ci sta, come è successo contro il Brasile, adesso credo che quindi la Serbia si porterà un'altra medaglia d'oro, adesso stanno facendo comunque, sto vedendo qui a Rai 2, la premiazione della nostra squadra con le medaglie d'oro, esito, scusate, magari d'oro, scusate un attimo, il lapsus, con, stanno arrivando a portare le medaglie di bronzo, quindi la premiazione, adesso stanno facendo tutte festa, quindi il risultato finale, Italia batte USA 3 a 0, e il risultato finale dell'Italia nel mondiale, l'Italia nel mondiale è stata continua, ma nello stesso tempo anche discontinua, se volete sapere, continua, ok, nel senso, tante vittorie, vittorie importanti, anche se abbiamo fatto un girone comunque di squadre abbastanza materasso, è un giudizio tecnico sull'allenatorio, avrei potuto anche capire questo allenatore, magari in queste partite più difficili di variare le giocatrici, e quando magari giocavano male come contro il Brasile, io avrei cambiato una Orro per una Marinov, sicuramente avrei cambiato una Paola Egon, avrei rischiato anche di cambiarla, avrei comunque anche rischiato, cioè non rischiato, avrei cambiato una Pedrini, una Pedrini anche sicuramente, avrei fatto dei cambi importanti, cosa che non sono stati fatti, e l'avrei fatto anche se fossi stati imbazzanti, questi cambi li avrei fatti anche nel girone, durante il girone, con magari delle squadre più tranquille, un po' più semplici, ma adesso avrei messo, immesso, ho fatto fare anche, non dico intere partite, ma belle ispezioni di partita anche a delle giocatrici che stavano in seconda linea, che poi molte di queste giocatrici che noi abbiamo in seconda linea sono giocatrici di prima classe, di prima fascia, non è che sono delle scappate di case, se vogliamo dire tutte, comunque Mazzani era giocato in questo modo, è arrivato comunque a prendere questa medaglia di bronzo, sicuramente questa medaglia è arrivata per meriti nostri, ma per demeriti anche degli Stati Uniti, perché ripeto, non c'è stata mai partita, ma neanche nel terzo set, il terzo set non c'è stata partita, perché siamo scesi noi, nel senso abbiamo iniziato a sbagliare tanto anche noi, quindi sbagliando, ovviamente gli Stati Uniti hanno preso un pochettino in largo, ma poi l'abbiamo ribeccata all'ultimo, l'abbiamo riprese, finendo poi per 26 a 24, una partita dove non c'è stata storia, una partita che cioè se l'andiamo a vedere, il primo set, sì, un attimino, magari l'inizio, forse anche derivante dalla sconfitta che c'è stata due giorni fa con il Brasile, magari le giocatrici sono arrivate lì in campo ancora molto incazzate, molto magari deluse, e quindi magari non avevano preso inizialmente questa partita con un piglio forte, poi hanno iniziato comunque a rigiocare bene, piano piano a sorridere, quindi quando sorridi inizi a rigiocare bene, l'avversario sbaglia tanto, riprendi fiducia, e poi che fai quando tu riprendi fiducia, quando vedi che l'avversario è quello che è oggi, quando vedi che comunque ti gira tutto bene, ti gira la defesa, l'attacco, il palleggio, tutto bene, poi giochi tranquilli, giochi aperti, giochi liberamente, e la partita poi va così, va limpida, va liscia, è andata liscia, ripeto il terzo set perché siamo 8 di noi, un pochettino, altrimenti la partita andava liscia, la vincevi 3-7 a 0, dando 10 punti a ogni set agli Stati Uniti, che nonostante hanno vinto le Olimpiadi, sono reddici la vittoria delle Olimpiadi, non hanno dimostrato tutto il loro potenziale, assolutamente, assolutamente l'hanno dimostrato, assolutamente tutto il loro potenziale. Cosa posso dire di più? Beh, dire di più nulla, se non fare complimenti a questa squadra, certo io nel 2018 ero sicuro durante la partita che la portavamo a casa, quella vittoria, adesso ovviamente non siamo arrivati in finale, abbiamo fatto la terza e il quarto posto, e col Brasile devo dire che inizialmente ci credevo, ci credevo, ci credevo che riuscivamo a passarla quella soglia, ma poi sono rimasto deluso anche lì, ovviamente una delusione di una finale mondiale persa il quinto set non può essere paragonabile a una delusione di una semifinale, ecco, perché comunque tu non ci sei arrivato in finale, il momento che tu ci arrivi e perdi il quinto set la delusione è crescita, non cresce molto di più, non so. Adesso siamo delusi perché non siamo riusciti ad arrivare in finale, ma siamo contenti perché abbiamo comunque vinto una medaglia che fa sempre scacchiere. Un saluto a tutti, ciao!